Cosa è di sbagliato in questa foto? Questi sono i titoli di coda. Naturalmente i titoli di coda, anche se posso dire un po' deprimenti, perché mettono in luce anche gli errori tattici di una coalizione che ha perso l'orientamento. È d'accordo. Però, secondo me, sarebbe un errore farsi abbagliare dai titoli di coda. Perché è una cosa più profonda. Noi adesso dicevamo Terni, ma a Perugia erano 4.000 lavoratori e sono 600. Si è scambiato tutto e il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista governavano tutte queste città ed erano partiti di popolo. In quelle città c'erano sezioni, circolo, casa del popolo. Quella costruzione gigantesca è crollata e i partiti che lo ha... Ecco, questo è il punto che vengo alla domanda, non maliziosa, perché no? Alla domanda dell'onorevole. Vengo alla domanda. Beh, quel collo ha fatto sì che i partiti che avrebbero dovuto, rinnovando, ereditare quella storia, sono trasmigrati. Hanno abbandonato il campo della società e sono diventati un ceto amministrativo. Questo ceto amministrativo ha continuato un governo che è sembrato durare 50 anni. La politica sopporta vuoti? No, non li sopporta. Non li sopporta, li riempie. E quindi accade che lì in Umbria arriva Galli, cioè arriva la...